Allora, la domanda che cos'è per me la poesia ha avuto bisogno di una scrittura, per cui posso dire che almeno per me non è la poesia con la P maiuscola, non coincide con il sentimentale, con la retorica, non coincide con il poetico, ha a che vedere con la realtà, ma ne dà una traduzione ulteriore, ha a che fare con il rigore, ma non con la rigidità, è etica, ha a che fare con l'etica, ma non con il moralismo, almeno per quanto mi riguarda si nutre di conoscenze diverse, non necessariamente solo di testi di poesia, ma anche di anatomia, anche di scienza e di matematica, si nutre di tradizione, ubbidisce, ubbidisce a questa tradizione per disubbidire. Non mi ricordo chi ha detto, il poeta impegnato deve saper fare un indecal sillabo, è giusto perché la poesia non ha a che fare necessariamente con i buoni sentimenti, diciamo che non bastano, ha bisogno di un'ubbidienza al ritmo e in quanto appunto all'indecal sillabo, insomma alla metrica, preferisco parlare di ritmo, direi che la frase finale è questa, che la ubbidisce per poi disubbidire.